Ciao e benvenuti in Camperis. È da un po' che non ci vediamo. Io sono Lorenzo. Oggi vedremo insieme il furgonato Malibu Van 600 DB. L'estate sta volgendo al termine. Per alcuni questa frase induce tristezza e rassegnazione, ma non c'è motivo di essere triste. Bisogna saper cogliere al volo le occasioni e sapersi adattare a ciò che ci circonda. Perché c'è chi si piange addosso e c'è chi invece tira fuori la tavola da snowboard. Ma diamo un'occhiata più da vicino. Questo piccolino ha la forza e la voglia di affrontare l'inverno, tanta quanta ne ha di raggiungere la prossima estate, senza farsi intimorire dal clima freddo o da quel locale, perché sa di essere in grado di tenere testa a qualsiasi cambiamento climatico, lasciandoti a tuo agio nella tua zona di comfort. 150 CV, cambio manuale, cerchi da 16 pollici, autoradio 1 DIN con predisposizione per 2 DIN e sensori di parcheggio, una visione su strada diretta e concreta, sedili regolabili e girevoli con regolatore di sospensioni sottostante, una cucina da chef stellato, con pianale aggiuntivo pieghevole, piano cottura con due fuochi e lavello con coprilavello che funge da pianale ulteriore, cassettiera con porta posate e flauto di derivazione utenze della cucina, frigorifero trivalente automatico, spaziosissimo e con banno congelatore, comodissimo bagno con accensione luce esterna e porta scorrevole, lavello, cucina scomparsa mediante l'utilizzo della pratica maniglia di blocco e doccia integrata nello stesso ambiente, un piccolo spazio per sognare sopra un comodo materasso matrimoniale posteriore, ideale sia per osservare la neve che cade in una fredda sera d'inverno, sia per osservare il mare in una calda notte d'estate, aprendo il portellone posteriore. Abbiamo anche uno spazioso garage sotto al letto, un banno predisposto per due bombole del gas, un tendalino laterale esterno, obloi finestre dotate di oscuranti e zanzariere, centralina servizi, pannello di comando riscaldamento stufa e boiler truma con sensore di temperatura. Se pensi che questo modello possa fare il caso tuo o volessi avere qualche informazione aggiuntiva, puoi contattare il nostro servizio clienti scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 345 041 8509 e seguici sui nostri profili social YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e sul nostro sito ufficiale www.camperis.it Io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo sul prossimo camper! www.camperis.it www.camperis.it Grazie a tutti.